E' la prima volta che mi trovavo da sola con un uomo, non così per l'uomo. Qui non succede niente, niente di niente, è tutto immobile come sempre. Ma intanto stiamo qui a marcire per la paura di quella che dirà la gente. Ma so che sta andando tutta la malora, so che ne chiederemo tutte, ma che cosa devo fare? Io voglio uscire di qui, voglio uscire di qui, fammi uscire. Insomma fai quello che vuoi ma non metterti contro la legge di Dio. Mamma di Pia aiutami! Mamma di Pia aiutami! Pia! Non mi lascia a prendere Pia! Mamma di Pia! Mamma di Pia! Andate in camera o detto! Mamma di Pia! Mimia! Mamma! È tutto così? Pia a Pia a Pia a Pia a Pia a Pia a Pia di sabbia, così tu, nella nebbia, più fuggire non potrai, e accanto a me tu resterai.